Ciao tesorini Ciao tesorini Hola queridos Hola meus amores Hola queridos Cucu mes amig Cucu mes amig Cuculepetite dual Hi guys Hi little sleepers Hi little sleepers Hola Estreitas Hola Hola Estreitas Hello 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 Ciao tesorini belli In questo video Vi metto a fare la nanna Sarà un video semplice semplice in cui vi preparo per dormire con un bel massaggino al viso con il burro di karité è quasi finito perché questo burro di karité l'ho usato praticamente tutta l'estate per massaggiarmi le mani la sera quando guardavo la tv con il burro di karité ma quello che è rimasto è più che sufficiente per un bel massaggino sulla faccia dei miei tesorini prima di dormire quindi prenderò un altro un altro po' di questo burro e cominciamo subito con questo massaggio colgo l'occasione tesorini cari per ricordarvi che se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate le notifiche cliccando sulla campanellina e selezionando tutte le notifiche perché altrimenti non tutti i video che escono vi vengono notificati inoltre se mi volete supportare lo potete fare lo potete fare lasciando sempre un bel like ed un commento se non avete tempo avete sonno è sufficiente anche un commento con un emoticon con un cuoricino ma per il mio canale è tanto tanto importante l'interazione da parte vostra io ringrazio veramente di cuore tutti voi soprattutto quelli appunto che si ricordano di lasciare un bel like e anche quelli che trovano sempre il tempo per lasciarmi un saluto anche veloce anche piccolo piccolo quindi tesorini cominciamo subito 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 cominciamo con un bel massaggino un bel massaggino sul viso che facilita sempre l'attormentamento un bel massaggino un bel massaggino per questo video ho voluto mettere questo sfondo scuro con le lucine era tanto che non lo usavo non è un gran che ma spero che vi piaccia comunque se va se torna se torna non è un bel massaggino spiare un bel massaggino Grazie a tutti Voi tesorini rilassatevi anche se passano gli aerei, anche se passano gli licotteri tesorini belli, bisogna imparare a rilassarsi anche con i rumori, con i fastidi perché nel mondo in cui viviamo il silenzio ormai è mergerar e bisogna imparare ad escludere i rumoraggi perché altrimenti ci guastiamo veramente la salute nella ricerca di un po' di pace ma alla fine la pace la dobbiamo trovare dentro di noi per esperienza personale io mi sono accorta che sono riuscita a rilassarmi, a meditare con un trattore che stava tagliando l'erba nel campo accanto al mio giardino perché ero in un momento di particolare illuminazione e serenità mentre in momenti in cui magari sono un pochino più stressata non giova neanche il silenzio perché seppur abbia il silenzio la confusione è dentro la mia testa e quindi non riesco a staccare, a meditare, a rilassarmi nemmeno nella totale pace e ho imparato da questo che la pace è una cosa interiore e se riusciamo ad entrare in contatto con la nostra parte più autentica, con la nostra vera essenza anche se ci sono i cani, anche se c'è il casino totale, riusciamo a rilassarci io sto cercando di fare del mio meglio per aiutarvi a stare bene ma mi sto rendendo conto che sta passando di tutto aerei soprattutto e tesorini belli non so proprio cosa dirvi io vorrei riuscire a fare dei video per voi brevi di rumori, di suoni ma sempre impossibile nonostante tutto il mio impegno nonostante tutto quello che io cerco di fare di organizzarmi a qualsiasi ora in cui io provi a registrare c'è sempre 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 qualche suono, qualche rumore fastidioso e quindi cosa bisogna imparare da questo? bisogna imparare che noi alla fine non possiamo decidere cosa succede fuori da noi possiamo solo scegliere di permettere all'esterno di disturbarci oppure possiamo scegliere di lasciare fuori tutto quello che c'è e concentrarci solo, 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 solo ed esclusivamente su ciò che ci fa stare bene bene tesorini adesso smetterò di parlare e proseguiremo solo con il massaggino perchè mi rendo conto che i rumori stanno aumentando forse un po' troppo e potrebbero diventare tanto 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 fastidiosi nonostante 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 la voglia e il desiderio di imparare a lasciarli andare quindi tesorini belli tesorini cari io vi preparo per la nanna con tanti 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 massaggini con tanto face touching e vi do la buonanotte 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 tesorini buonanotte buonanotte tesorini buonanotte tesorini buonanotte 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 tesorini buonanotte no Sì, sì. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info no, 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 no grazie a tutti 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 grazie a tutti